Ciao ragazzi, io sono Redd e negli anni vi ho esposto più e più volte il mio amore incondizionato, incontrastato, incommensurabile non ho altri aggettivi che iniziano per in, per le Glock. La pistola Glock, l'arma d'ordinanza Glock, la famosa e quadrata Glock è sicuramente una delle mie pistole preferite se non la mia preferita in assoluto. Ecco perché oggi vi porto la recensione della serie Glock fatta da Secutor. Compagnia che conosciamo molto bene per i suoi fucili a pompa e soprattutto per le sue berette che abbiamo già resensito qui sul canale e che trovate linkate in descrizione. Quindi senza attendere ulteriormente, sigla e poi partiamo. Ecco qui i due modelli di cui andremo a parlare oggi. Sono belli eh? Il primo modello è la versione della Glock 17 acta non verba stone grey, letteralmente grigio pietra per così dire, con un'impugnatura molto particolare di cui parleremo a breve a CO2 e con le tacche di mira spostate. L'altra è la Glock magna, magna, magna che cosa? La pasta. Quattro, come suggerisce il nome in romano. Lì sopra, molto molto carina, con ovviamente le scritte in latino che Secutor adora e mette su ogni suo prodotto. Sempre una versione della 17 ripensata, rivisitata. Fuoco ti prego, aiutami tu. Sì, mio alleato, perché non vuoi essere mio nemico. Molto carina, con tutte le sue features interessanti che andiamo ad analizzare. Orora. Ci penso io, giusto, ci penso io. Boom, morta. Le pistole Secutor tendono ad avere tutte la stessa caratteristica. Sono a CO2, quindi tutte queste Glock che vi farò vedere sono a CO2. Quindi i loro caricatori sono vuoti perché all'interno va messa una bomboletta di CO2. Un'altra caratteristica importantissima delle pistole Secutor è che loro adorano il metallo. Quindi non troveremo parti in plastica, se non per quanto riguarda ovviamente le parti in polimero rinforzato che anche la controparte reale ha. Quindi il fusto inferiore della pistola, le gonnelline dei caricatori e il resto è tutto in metallo. Partendo dalla Magna Magna 4, troviamo un carrello alleggerito in modo tale che pesi meno e che quindi la pistola possa appunto andare a operare in maniera più semplice senza dover far affaticare nulla. Ovviamente le scritte Virtus, Vincere, Tenebras, quindi la Virtù vince le Tenebre. Io la comprei solo per questo. L'ha scritto ovviamente in numero romano di 4 perché questo è il modello numero 4 per così dire. E Loghino SPQR. Sono di Reggio Emilia quindi non posso che adorare il fatto che ci siano numeri romani e appunto un po' questo stile romaneggiante romanesco riportato su questa pistola. Questa pistola funziona veramente molto bene, ha un sistema di scatto ottimo, funziona veramente molto bene e si arma e spara in maniera pratica. Il grilletto ha il peso giusto, eccolo lì. Essendo a CO2 ovviamente dà un bel calcio rispetto al Green Gas, non ha un rinculo devastante, però comunque è un pochino più cattivo, un pochino più arrabbiata. Ovviamente è come suggerisce il nome Dual Tone, quindi ha due colori, come suggerisce il nome è un Dual Tone, quindi ha il tan per l'impugnatura e il carrello completamente nero con un paio di inserti neri anche sul corpo della pistola, come possiamo vedere il grilletto e il tasto di rilascio dei caricatori. E ovviamente il corpo interno del caricatore in metallo e la gonnellina invece torna ad essere ovviamente tan. Tra l'altro Loghino SPQR anche sulla gonnellina del caricatore. Troviamo infine, sempre per quanto riguarda i Loghi, il numero seriale qui di fianco e questo adesivino qua che ovviamente potete togliere e qui ovviamente c'è scritto Magna. Pistola veramente tosta, mi piace veramente tanto sia come estetica ma soprattutto perché è a CO2, quindi la possiamo andare a utilizzare anche d'inverno senza che ci dia problemi. Chiaro è che essendo a CO2 ha tutte quelle complicanze che il CO2 ha rispetto che è il Green Gas e bla bla bla, possiamo stare qui a parlare due anni sulla differenza tra CO2 e Green Gas, ma non lo faremo. Anche perché l'abbiamo già fatto, trovate il link in descrizione. Troviamo tra l'altro, a differenza della Glock originale, lo spegni fiamma che è esterno, che anche la Glock originale non aveva. Comunque va bene, può essere andato a svitare e al suo di sotto, al di sotto di esso, troviamo una filettatura per silenziatori. Quindi volendo non dovete andare a fare come sulle Glock normali, che bisogna mettere un prolungamento di canna, andarle a incastrare all'interno, nel resto, ma avete già appunto la filettatura per andarcelo ad avvitare sopra. Una cosa importantissima su questa pistola, che ho voluto tenere proprio alla fine come dolce, prima di passare ovviamente alla Stone Grey, è che all'interno di essa c'è già di serie un gommino Maple Leaf. Per chi non fosse avvesto alle marche di gommini, la Maple Leaf è una delle marche di gommini OPAP migliore sul mercato, se non la migliore. I gommini Maple Leaf danno una precisione, una resistenza, una performance generale, adoro farlo, alla pistola che è nettamente superiore rispetto ovviamente ai gommini plasticosi merdosi che trovate stock in questo genere di pistole. Quindi su questa è già interno e predisposto e tira veramente molto bene. Quindi quando andiamo a puntare, andiamo a sparare, abbiamo una pistola che non spara come una VE, non spara come una Glock da 120-130 euro, ma spara come quasi, e qui mi sbilancio, una Gen 5 17 Umarex. Quasi. Passiamo all'altra. Se la Magna 4 è un pochino troppo romaneggiante per i vostri gusti, ho qui qualcosa che vi farà godere parecchio. Non tanto perché ha delle performance superiori, in quanto questa si posiziona un pochino sotto la Magna 4, per l'appunto, ma per estetica e features particolari. Ecco che entra in gioco la acta non verba Stone Grey. Stone Grey, come ho detto, è per il colore del carrello, che è appunto grigio-pietra. Troviamo molte delle caratteristiche presenti anche sulla Magna, in quanto la Magna è sostanzialmente la versione migliorata di questa, anche se si sono dimenticati di mettere le cose più fighe messe su questa pistola, poi sulla Magna. Tra le features principali che possiamo trovare è l'attacca di mira spostata, quella ovviamente posteriore, è esattamente sopra l'estrattore, perché quando lo andiamo a chiudere, come vedete, è giusto lì. Può essere successivamente spostato, quindi dietro, basta staccarla lì senza nessun tipo di problema, ed è già predisposta per attaccare i mirini MRR Micro Dot. Quindi potete direttamente andarci ad attaccare sopra un mini dot per andare ad acquisire il bersaglio in maniera più semplice. Molto molto figo, anche perché normalmente c'è da tirare delle madonne per montare questo tipo di mirini su questo tipo di pistole. Un'altra feature importantissima è il tipo di grip, ed è il tipo di pattern che ha l'impugnatura, ed è riportata poi anche qui dove c'è il poggiadito, e nella gonnellina del caricatore, che è da arma vera. Questo tipo di grip qua, infatti, è fatto in modo tale da bloccarsi nella mano in maniera molto più solida, e per mettere anche un'estrazione e un'impugnatura veramente molto solida quando andiamo a impugnare la pistola. Personalmente è un elemento molto figo, anche se in passato avevo detto che ritengo che nel software serva un pochino poco, lo ritenevo molto fastidioso sulle mani. In realtà devo dire che basta abituarci, sì, e che comunque se spariamo soprattutto a mani nude, il grip lo sentiamo che è veramente molto solido, e sinceramente il fatto che abbiano incluso il grip sia nel poggiadito laterale, quindi quando teniamo il dito fuori dal grilletto, che anche in altri punti in modo tale che indipendentemente da come andate a sparare possiate tenere le mani come vi pare e mantenere un grip, fa vedere quanta cura è stata messa nella progettazione della pistola. Troviamo sempre un caricatore a CO2, a questo giro lo apprezzo un po' di più perché non ha il buco dentro con il bombolone, appunto, che in questo caso non si vedrebbe in ogni caso, ma ha appunto questa gonnellina qua che può essere andata a rimuovere, tra l'altro c'è il logo con l'elmetto della Secutor, bellissimo ragazzi, ed è possibile utilizzarla anche con caricatori a green gas, quindi volendo si può fare sia uno che l'altro. Non troviamo all'interno un gommino maple leaf dedicato a questo giro, volendo si può andare a mettere aftermarket, troviamo sempre un carrello alleggerito in modo tale che vada a pesare tutto meno e la pistola non sia appunto troppo pesante, scanalature per poter andare a sbloccare la pistola sia davanti che dietro, quindi quando dobbiamo andare a incamerare il primo colpo la possiamo tirare sia da davanti che da dietro. Ovviamente quelle davanti possono essere utilizzate anche quando dobbiamo andare a ricaricare, quindi a incamerare, scusatemi, il primo colpo e abbiamo una mano ferita, quindi in modo tale da poterlo fare con una sola mano se l'altra è impossibilitata. Non troviamo tutti i loghi che c'erano sulla Magna 4 a questo giro, che può essere un pregio o un difetto a seconda che vi piacciono le pistole super cariche di loghe come la Magna 4, io personalmente per quanto adori quei tipi di loghi la preferisco un pochino più realistica, un pochino più alleggerita e quindi questo modello mi piace un po' di più. Features importanti che questa ha e non ha la Magna 4 è questo tipo di sicura, ovvero una sicura posta direttamente sul corpo del grilletto, quindi se qui è rosso possiamo andare a sparare, mentre se andiamo a premerlo dentro, quindi rosso non c'è, niente pericolo. In poche parole, rosso pericolo, niente rosso, non possiamo andare a premere il grilletto. Un'altra features molto importante di questa pistola è il tasto di sgancio del caricato, che come possiamo vedere è diverso rispetto alle Glock generazione 3 normali, è stato ampliato perché quello delle generazioni 3 fa abbastanza schifo e se ve lo dico io vuol dire che potete credermi, diciamo mettiamola così, quindi è molto più semplice andarlo ad estrarre e soprattutto andarlo a premere. Quindi features molto importanti e che ho apprezzato veramente tanto. Se vi steste chiedendo perché l'audio è cambiato, beh è molto semplice, ci sono scaricati i microfoni, io mi sono aperto un dito dando una sberla a una pistola e in tutto questo Giuse, Giuse che fa? E quindi scusatemi se l'audio calerà di qualità, per l'appunto purtroppo dobbiamo fare così. Se siete stufi delle solite pistole però che sembrano pistole, delle solite Glock che sono alla fine delle Glock, delle pistole, non cambiano le cose, ecco qui che il buon Red vi porta alla soluzione e vi farà vedere il kit Corvus 3 per Glock. Il kit Corvus 3 non è altro che un calcio appunto per la vostra pistola. Un calcio ovviamente abbattibile, quindi potete andarlo a collassare e la pistola può essere utilizzata senza problemi in ogni caso. In questo caso c'è dentro una Magna 3 che è diversa rispetto alla Magna 4 solamente perché i colori sono invertiti, quindi ha sempre l'opup appunto Maple Leaf, tutte le features dell'altro e ovviamente semplicemente cambiano i colori sostanzialmente. So già però cosa state pensando. Sì Red, bello questo calcio qui, ma come faccio a chiudere il carrello? Perché giustamente il tastino per appunto andare a chiudere il carrello è abbastanza scomodo da premere, non riuscite a premerlo così, dovete andarci dietro con l'unghia e vi fate anche abbastanza male. Quindi qual è la soluzione a cui ha pensato Sector per questa cosa? Una cosa abbastanza banale che dovremmo sapere tutti quanti, ovvero che se noi andiamo a prendere il caricatore vuoto, andiamo a inserire un caricatore pieno, ci basta poi semplicemente tirare indietro e il carrello appunto si va a sganciare. Tra l'altro è stata montata questo ampliatore appunto per il culo del carrello in modo tale da andarla a premere in maniera molto più semplice. Tra l'altro in confezione ce n'è un altro di questi culetti qui per appunto il fondo del carrello che praticamente vi dà la possibilità di andare a tirare dall'alto, quindi comunque va a agevolare ancora di più il sistema di appunto sgancio del carrello. Nota importante che come ho detto questo qui si può andare ad abbattere completamente, quindi la potete utilizzare in questa maniera qua. Ci sono le fondine per attaccarvela direttamente in coscia in questo formato qua, quindi se avete paura di non trovarci una fondina non c'è problema. è provvista di attacco cinghia, quindi volendo potete utilizzarla con cinghia a un punto e tenervela sempre vicino al vostro cuoricino. E soprattutto, cosa molto molto figa, c'è il RIS ovviamente, quindi potete andarci ad attaccare un paramano, una torcia, un puntatore laser e questa opera veramente in maniera molto figa. Tra l'altro visto che questo tipo di pistole sono provviste di attacchi per mirini red dot, mini dot, rmr, rmr, come si dice rmr, ci potete mettere il mirino rmr, come ho detto, quindi rmr, non ce la faccio, non riesco a dire rmr, non me lo mi dico. Un silenziatore, un mirino mrm, rmr, un mirino rmr, ce l'ho fatta, un calcio qui e questa diventa una bellissima piccola mitraglietta bastarda. E insomma ragazzi, cosa vi devo dire? Questa è letteralmente una delle cose che io sognavo. È ovviamente compatibile con svariati modelli di Glock, perché tanto gli si chiude intorno, quindi non è per forza da montare solo su Glock Secutor. Personalmente è una gran figata, non so cos'altro dirvi, se non che veramente. Lascio la parola a me stesso per le conclusioni finali. Volevi fare il Warrage? No, no, dove stai a dire su cosa stai facendo? Passiamo dunque alle conclusioni finali. Cosa penso di questa pistola? Ne vale veramente la pena? La risposta è sì, per un semplice fatto. Io personalmente mi sono andato a prendere una M9A3, una barretta che non mi piace perché era CO2 per poterla usare d'inverno e poi ho scoperto che c'erano queste Glock Secutor. CO2, che potevo usare d'inverno. Santo cielo, Apsydasys, per dindirindina. Lo so che non è bello urlarlo così, però poi quando lo giro fa ridere, se lo dico piano invece non fa ridere. Quindi, finita la gag, insomma, sono ottime perché una la potete usare d'inverno, l'altra d'estate. Personalmente continuo a preferire come feeling in mano, anche perché comunque queste sono delle basi di Glock Gen 3, quindi non hanno il fusto della Glock Gen 5, che io personalmente adoro perché è veramente fenomenale, e hanno sicuramente dei vantaggi in più, sono più personalizzabili, sono un pochino più carine, se volete, perché hanno tutti degli inserti, però comunque rimango sulla mia Glock Gen 5 Umarex, lì non mi sposterò mai. Come performance, soprattutto la Magna 3, ha la possibilità di avere già all'interno un gommino Maple Leaf, che non è assolutamente una cosa da buttare via, anzi, è una cosa importantissima a mio parere, in quanto solamente alcune pistole di Novritsch mettevano dentro questo gommino, e lui l'ha fatto apposta perché sapeva benissimo che i gommini Maple Leaf performano da bestia, cioè sono incredibili. Tra l'altro, personalmente, le Glock customizzate non mi fanno impazzire, queste sono tra le poche che lo fanno in maniera abbastanza fine, perché abbiano senso all'interno del software, senza diventare appunto dei giocattoloni, quando vengono personalizzate un po' troppo, tipo le iK, che personalmente non mi fanno impazzire. Come performance, come detto, se la possono, secondo alcuni, contendere con la Glock 17 Gen 5 e della Umarex, io ci credo poco. Se volete vedere quindi questa comparison, dove proviamo queste due pistole, ve la butto lì, arriviamo a 1500 like, per vedere una comparison in campo, dove io e War ci spariamo addosso, tra la Glock 17 Gen 5 Umarex e la Glock Magna 4. Quindi la mia opinione, per terminare, insomma, questo discorso, è che queste due pistole siano veramente ottime, sia la Magna 3 e 4, sia la Corvus, sia per l'uso del CO2, che comunque permette un pochino più di malleabilità di utilizzo, senza troppi problemi, soprattutto in condizione di tempo sfavorevole, e allo stesso tempo anche per performance, in quanto raramente troviamo delle pistole a CO2 che performano veramente bene, che hanno tutte le robe messe al loro posto. Sector, sinceramente, si sta dimostrando veramente valida nei suoi prodotti, sia per i Pomba, che vi abbiamo già recensito, sia per le proprie berette, quindi io, sinceramente, sono molto, molto contento. Se siete interessati a saperne qualcosina di più, trovate linkati tutti i prodotti di cui ho parlato in descrizione, insieme a quelle due o tre recensioni che vi ho citato durante il video, trovate in descrizione anche il link del Monopoly Software Shop, il negozio che mi sponsorizza e che ovviamente mi permette di recensire tutte queste incredibili pistole. Se inoltre voleste farci il favore di venire a seguire su Instagram, pubblichiamo un sacco di contenuto anche lì, che quindi può dilettarvi durante la vostra settimana. Detto ciò, io vi saluto, vi ringrazio di essere stati qui con me in questo bellissimo sabato, vi auguro un buon fine settimana e soprattutto, stay hungry! Redman World Rage! Redman a prova di tiro! Redman a prova di tiro!